Ciao a tutte e ciao a tutti, ho un commento, qui voglio dare risposta immediatamente perché è un commento che mi tocca da vicino e chi più di me ha il diritto di rispondere e il dovere di rispondere ad un messaggio del genere è Anna Solemare. Ha commentato sotto un video di ieri credo e lei dice l'unica volta che finalmente ho pensato stavolta ce la faccio ho perso improvvisamente la persona che in pochissimo tempo mi aveva dato la speranza fino a quel momento neanche sapevo cosa significasse sperare. Ero talmente felice che mai avrei pensato che potesse invece accadere una cosa così brutta e assurda. Sembra che chissà per quale motivo io debba vivere nel dolore e nella sconfitta. Una volta che ho trovato un angelo, perché questo è stato per me da subito, e me l'hanno portata via, me l'hanno portata via, ora ho paura di trovare la felicità e di trovare chi davvero possa aiutarmi, perché dentro di me è ancora vivo il trauma di sette anni fa e ho il terrore che possa ricapitare. Carissima Anna Solemare, allora, sia chiara una cosa, perché ho detto che io ho il diritto più di chiunque altro e il dovere di fare questo video risposta? Perché quando avevo 19 anni, e molti lo sanno, ho perso di incidente stradale la mia ex fidanzata, pensa un anno assieme quel giorno, e tra l'altro l'avrei dovuta portare io in auto, invece andò col padre e morì, morirono entrambi. Allora, in quel momento mi cadde il mondo, tutto andava bene, ero appena uscito con 60 sessantesimi dalle superiori, foto pubblicata sul giornale, migliore studente, entrato all'università, io ero l'uomo più realizzato del mondo. E l'idea era, ci sposiamo. Voi direte, ma così giovani, così giovani, che ci possiamo fare? Le scelte sono scelte. Furono due anni, cara Anna, di, guarda, io ho sempre espresso il tutto dicendo, le budella mi si contorcevano dal dolore. E avevo un orsacchiottino, e chi ha fatto la sessione con me, l'orsetto, sa cosa significa, che era bagnato dalle lacrime per, da due anni, due anni intensi di lacrime. Tutte le mattine era bagnato. Io penso che facevo una pena a mia madre. Ebbene, cara Anna, o cara persona che stai scrivendo, non è vero, è semplicemente che sei dentro un codice che dice, se sono felice deve crollare tutto, deve accadere qualcosa che mi faccia crollare tutto. Si tratta di spaccare lo schema. Perché? Perché io poi ce l'ho fatta. Poi mi sono sposato con quella che è stata la mia ex moglie, una storia bellissima, innamoratissima. Ho avuto un figlio che è il mio cicciolino, il mio amore, chiamolo come vuoi, ha quasi 17 anni, ma per me è sempre il mio cicciolino. Ebbene, le cose possono cambiare, però devi essere tu per prima a interiorizzare un fatto. Non è che se sono felice deve per forza accadere qualcosa. Ti dico una cosa. Io ti capisco perché questo terrore del potrebbe accadere da un momento all'altro, con una preda dietro le spalle, beh, questo ti assicuro che è una cosa che permane per anni, però devi lavorare su te stessa come persona. Se lavori su te stessa questo programma scompare, quantomeno scompare in gran parte, e riesci a rinascere. Ricorda non mollare mai la vita. La vita è sempre lì che ti può dare tutto quello che tu vuoi. Ma devi cominciare a avere il coraggio di dire da dove parte tutto questo, da quale sindrome degli antenati sta partendo. Non annunciare il tuo problema, vivere la tua paura e poi mollare lì. Devi affrontarla. Devi trovare il codice che ci sta lì dentro. Il mio compito è quello. Adesso non è che devi rivolgerti a me per forza, non sono qui per questo. Però devi trovare il programma e riuscire ad uscire da tutto questo. Va detta un'altra cosa, che esistono programmi secondo i quali ad una nascita corrisponde una morte. Quindi tu sei nata nel senso che hai avuto una rinascita, hai fatto nascere una relazione. L'inconscio non distingue, come dico spesso, una nascita di un figlio dalla nascita di una relazione, una convivenza, un matrimonio, un'azienda, tutto quello che tu vuoi. Ma tutto si può eliminare. Devi lavorare su te stessa, non demordere mai. Hai capito? Non demordere mai. Perché altrimenti alimenti il tutto. Mi raccomando, io ti sono vicino, questa è la tua sfida. Prendi la fotografia di un orso, calpestala, uccidilo, massacralo. Nessuno ce li ha con gli orsi, attenzione, nessuno ce li ha con gli orsi. Sì, è un'informazione del cervello rettile quella a cui mi riferisco. Strappala, bruciala, non ci deve essere pioggia, mi raccomando. Non ci deve essere rumore di nessun scorrimento di acqua, né di water, né di rubinetto, sotto terra o in un vaso. Parlo di non far scorrere l'acqua mentre stai bruciando i fogli. Fallo più volte se ti viene di farlo. E ogni volta che ricevi un oggetto a forma di orso, spaccalo, buttalo via. Perché il cervello rettile ha associato tutto questo a un programma che hanno gli orsi. È un po' lunga da spiegare? Fidati, ok? Fidati. Chi ha fatto sessione con me se lo ricorda, ma è lunga da spiegare. Riguarda l'evoluzione della specie umana unita a quello degli animali. Ora, io ti abbraccio forte. È stato un video che sentivo la necessità di fare perché quando morì, ad esempio, la fidanzata, l'ex fidanzata del mio cugino, a chi affidarono, secondo te, le cure emotive di mio cugino? Ma ovviamente è sottoscritto perché aveva avuto l'esperienza e sapeva come tirarlo fuori. E indovina un po'? Attualmente è felice e vive con una persona, con una bambina, non è sua, ma comunque vivono felici. Insomma, la vita può dare grandi cambiamenti, ma segui il mio consiglio. Prendi l'immagine di un orso e fai quello che ti ho appena detto. Segui quello che ti ho detto e fallo più e più volte. La tua vita può cambiare. Ricordo a tutti che martedì questo, 27 luglio, scusate, alle ore 21, siamo in live su Zoom con gli iscritti all'Accademia Nels Academy. Trovate qui sotto il link per l'iscrizione al sito. Chi mi segue da YouTube, qui sopra, chi mi segue da Facebook, mi raccomando, iscrivetevi perché vi arriverà l'ultima di tre e-mail programmate. Una è partita ieri, c'è il link per accedere poi alla meditazione di gruppo dedicata all'attivazione dei talenti. Ci cliccate quando vi arriverà e parteciperete un quarto d'ora prima, mi raccomando, si deve entrare, alla grande meditazione di gruppo. Più siamo, meglio è. E vi arriverà una nuova e-mail, sempre con lo stesso codice, il giorno stesso, cioè martedì, verso tarda mattinata, così chi si iscrive adesso avrà comunque il codice. Un abbraccione grandissimo, grandissimo, grandissimo. E cara Anna Solemare, se sei tu che hai veramente scritto, perché a volte si usano account di altri, un grandissimo abbraccio e vedrai che se mi ascolti le cose possono cambiare. Ciao!